Ho fatto, ho fatto! Oh, via! Io te, Lani! Oggi, siamo Corrientesi e questa pubblica piazza non per vendere civile ma per fare politica. Oggi, l'Italia fascista entra in guerra più contro la Germania nazista contro la Francia e l'Inghilterra. Io sarò la guida dei nostri gruppi insieme al mio caro amico Adolf Hitler anche se si è fatto dare il calcio in culo del Capitano America e adesso vi presento il mio amico! Grazie, Pineto! Non è la mia mia! Io sono l'unica piazza di Germania! Io e Antonio! Io sono l'unica piazza di Germania! Comunque! Non devi parlare! Questa volta per di vedere! Farò il Capitano America per di vedere! No! 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 Non mi faccio niente di nostri libri! E' uno scazzo che non so mai come facendolo! Io! Su esercito! Lo è l'Elevenau! Casa del 448! E adesso vi presento il mio amico comunista! Vladimir Putin! Vai Putin! Sì! Oh! Oh cane! Oh cane! Letite! Via! Indietro! Fa' me spazio! Fa' maestro! Buongiorno Buongiorno Io sono Vladimir Putin guarda tutto quanto la russia io prima sono stato ministro di interna russia poi ministro di interna russia e adesso sono grande papa di russia e io so fare bene pezzi di messa vedete questo adesso vi farò vedere prima di ostia in altri vostri cuori sono il vostro signore e quindi adesso vi dico sui cuori oh sui cuori sui cuori oh oh tu ti riguarda signore sui cuori oh tu alza con le mani tu si tu proprio tu si e te alza con le mani sui tu alza le mani oh yeah DJ Putin DJ Putin ooo mi sta come dicendo la mia carriera di politico che cazzo la mia carriera di politico io avrei fatto tutto pure accordi con mafia vita rossa vedete guarda tutti i denti di oro schifo ma mafia rossa mi ha procurato a me i denti di oro e io ho procurato loro soldi ti ho dato loro non mi dire altri tizi da ammazzare di tizi che non pagano prezzo e ha detto e adesso devo concludere mio numero e poi Israel mi ha detto che deve dire una cosa perciò non basta dai 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 mi passa un attimo mi amico basta basta è finito il video sta per finire prima mi sono scordato di dirmi una cosa che io mi rende fiorito in Germania ho fatto dei trucchi per le truppe quindi il decolore molto caso merda fruit merda ..noi noi noi e adesso se a noi voglio ricomprare lo faccio uuuh neinneinneinennè.noeee non dispiace le mani ecco questo concluido che si riuscola